Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal, dunque ancora qualche ora di allerta per neve sulla nostra regione, nei comuni dell'interno della zona A allerta gialla fino alle 18 di oggi sabato 2 dicembre, in quelli dell'interno della zona B gialla fino alle 15, nella zona D allerta arancione fino alle 15, poi gialla fino alle 18, si allontana il minimo di pressione che ha determinato, unita a una perturbazione, le precipitazioni delle ultime ore, precipitazioni che hanno dato ad esempio un'accumulata di 48 centimetri a Monte Settepani nel Savonese, precipitazioni intense soprattutto nella Val Bormida, mentre il vento si è rinforzato, raffica al lago di Giacopiane fino a 155 km orari. Oggi sabato 2 dicembre, ancora una giornata fredda e perturbata, con cielo coperto, forti venti di grecale e deboli precipitazioni sul centro ponente, dove la neve continuerà a cadere nell'entroterra. Lenta attemunazione dei fenomeni dal pomeriggio, venti da nord e nord est di burrasche e rafficati, mare molto mosso, localmente agitato a ponente, temperature massime in aumento lungo la costa tra 6 e 10 gradi, nell'interno tra 2 e 6 gradi. Domani, domenica 3 dicembre, deciso miglioramento con nubi residui, a Levante in mattinata che si dissolveranno rapidamente, lasciando spazio a una giornata serena. Venti da nord e nord est forti, localmente di burrasche in diminuzione fino a deboli o moderati la sera, mare molto mosso a ponente, mosso levante in calo fino a mosso, localmente poco mosso levante, temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 1 e 5 gradi, nell'interno intorno a meno 3 e meno 2 gradi, massime in aumento lungo la costa tra 8 e 13 gradi, nell'interno tra 2 e 9 gradi. Chiudiamo con lunedì 4 dicembre, bel tempo e sole appena disturbato da locali deboli e densamenti, venti deboli o moderati da nord, tendente disporsi temporaneamente da ovest nelle ore centrali, mare poco, localmente mosso, al mattino a ponente, temperature minime stazionarie lungo la costa tra 2 e 5 gradi, nell'interno tra meno 3 e meno 1 grado, massime in aumento lungo la costa tra 11 e 15 gradi, nell'interno tra 4 e 11 gradi. Seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina facebook di Arpala risentirci.